Non ho più paura di te, tutta la mia vita sei tu, vivo di respiri che lasci e che consumo mentre sei vivo. Non posso più dividermi tra te e il mare, non posso più restare fermo ad aspettare. Io che avrei vissuto da te, nella tua straniera città, so un istinto di chi sa mai, so ma pur sempre con te. Non posso più dividermi tra te e il mare, non posso più sentirmi stanca di aspettare. No, amore no, io non ci sto, ho ritorni, non resti lì, non vivo più, non sogno più. Ho paura, aiutami, amore no, ti credo più, ogni volta che vai via, mi giuri che è l'ultima, preferisco di ti adio. Cerco di notte in ogni stella il tuo riflesso, ma tutto questo a me non basta, adesso cresco. No, amore no, io non ci sto, ho ritorni, non resti lì, non vivo più, non sogno più, ho paura, aiutami. Cerco di notte in ogni stella il tuo riflesso, mi giuri che è l'ultima, preferisco di ti adio. Non posso più dividermi tra te e il mare, non posso più restare ferma, Non posso più dividermi tra te e il mare, non posso più dividermi tra barletta e il mare. Non posso dividermi, non posso dividere. E allora, buongiorno, buongiorno cari amici, anche Michele, io ho un telefono che costa 900 euro, Michele, non è un telefono di un cento euro, a volte è la linea che va bene, non va bene. Poi questo telefono l'ho fatto lavorare tantissimo, è un telefono che lavora tanto. Ci sono i telefoni che non lavorano proprio, ci sono i telefoni che stanno sempre a lavorare. Sai, se potesse parlare il telefono, sai come mi manderebbe a fare in culo? Buongiorno amici, buongiorno amici di Barletta d'Est, buon giovedì 10 ottobre, anche oggi sono qui per augurarvi una gran bella giornata. C'è un sole pazzesco, oggi ci sarà un caldo pazzesco, ve lo dico subito. E un salutone al mio nipotino Pasqualino, Pasqualino ciao, Pasqualino, amore mio, buongiorno. Come va, come va, tutto ok, tutto ok? E' un buongiorno, è un buongiorno ragazzi. Auguri a Daniele, come no, auguri a Daniele, mamma mia, auguri, auguri, auguri al tuo figlio, auguroni. Perché? Perché che cos'è oggi? Un mese a San Daniele, San Daniele non penso, amore. Io ci metto l'occhio all'è portato, metto l'occhio all'è portato. Michele, l'integrale di Cristianici, Michele, poi l'iPhone io non lo capisco. Non lo capisco. Oh ragazzi, che ora sono per favore? Ah, oggi è San Daniele, San Daniele. San Daniele! E' bello che ti metto l'occhio all'escorto, Pasqualino, cazzo dai? Ecco qua il castello. Che ora sono ragazzi, che non posso fare tardi oggi, che oggi siamo in pochi. Ciao Vicky, San Daniele, sì, grazie, auguri, auguri a tutti i Daniele, Daniela e Daniele. Daniele, 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 come dici Pasqualino, San Daniele, San Daniele. Mamma mia, è tardissimo, no? I sette e mezzo, voglio, sto chassertando. E' ritardissimo, sono amici. Buona giornata a tutti, io vi saluto. E' bellissimo fare, al tuo principino, sì, al tuo principino, auguri, auguri. Senza parole, senza parole, noi lo diciamo sempre, senza parole. Mamma mia. Brutta manovra ho fatto, lo so. Specialmente che quello c'era il sole di fronte, ho fatto una grande cagata. Ho sbagliato. Anche io sbaglio, ci mancherebbe altro. E ci mancherebbe altro, e ci sai. E allora, allora, ragazzi, anche oggi è fatta un piccolo buongiorno con piccoli problemi, però ci siamo dati il buongiorno a tutti quanti. Tutti quanti siamo contenti di ritrovarci sempre a quest'ora per farci, per dirci buongiorno, un semplice buongiorno per iniziare la bellissima giornata, che oggi sarà una bellissima giornata, ve lo posso garantire. Cari amici, io vi auguro il meglio del meglio, come al solito. Dove stiamo pure... Stai? Menù male. Ecco qua. Io vi auguro veramente una bellissima giornata. E spero, e spero che tutte le cose vanno per il meglio. Ciao a tutti e buona giornata.